Lì 3 e 1 Aiuto Questo mi sa che è nuovo Quello della pizza questo Ricordi che c'era anche nel primo Sì Allora Fu dalla tua parte Io dalla mia Mi raccomando vai in confusione l'altra volta No no Mi son vista, mi son veduta Ok Ho piatto Adoro Ma cosa serve il piatto? Ma almeno ce l'hai già il piatto Fidati di me Perché dopo ti serve il piatto Almeno ce l'hai già pronto Tieni Te ne ho preparati due Io non posso fare niente qua Solo pomodori Ferma Ma che sta Non posso muovermi Vai No no Il tuo mollaro L'ho messo Lo puoi mettere anche dopo Questo lo devo consegnare Giusto? Sì 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 la cosa bella è che puoi metterlo anche dopo Quindi non ti preoccupare Si è alzato e ti ho lanciato il piatto Ora che ha finito la pizza Del da fare E ti serve un piatto E a me ho tagliato Ok vai a consegnare E da un po' che non mangio la pizza Lo c'è famaggio Ma io sì l'ho mangiato In casa mia non manca mai la pizza E niente Ecco la pizza resterà lì Piatto Ah dobbiamo lavare anche i piatti E dove sono i piatti? Ah là La sopra Due li ho lavati Ma c'è lì Non lo tengo E' pronta Tieni Porta la cucina Tieni il piatto Lo ho messo qua sul tagliere Ok prendi la pasta lì Ha finito la pizza di fare E allora sei proprio Guarda non ti dico cosa sei Il gioco ogni tanto Perché sono una persona educata Ho detto le pizze Ho visto Non c'è niente dentro Delle pizze Ah mi sembrava di si Vedevo tutto fumare Non capivo No 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 Poi ti puoi fare la pizza Vogliono tutto il pomodoro Quindi bene o male Occhio che fra un po' Ha finito la pizza Ma perché non lanci La pasta della pizza Così intanto la taglio Facciamo prima Non ti viene in mente Io ti lancio un estintore Se vuoi Grazie Grazie Ho mangiato Ho mangiato Volevo ritagli per favore Un attimo E va Bam 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 E no l'ha alzato Non lo so Volevo vedere se passava E non c'ho spazio per tagliare C'è tutta la roba Se uno me lo levi Questo l'ho già tagliato Ok questa è pronta Vai Penna messa in forno Per un pelo ce l'abbiamo fatta No 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 Va bene così Ce l'abbiamo fatta alla fine No io ho una voglia di pizza Ah avevo capito Lo vuoi rifare Hai detto ma se l'abbiamo fatto Lì in mezzo Mi sa che c'è un livello Bonus dopo Ok pronta Ma qui cosa dobbiamo fare Gli hamburger Gli hamburger Allora io vado su E tu Lanciami la roba no Così Allora Ma che è sta mafia contro di me Eh da sotto non posso lanciartela Allora To Tu stai in mezzo lì per favore Io ti lancio tutto quello che ti serve Tieni Panino Panino La carne è quasi completata Panino E panino Ok adesso Ti preparo la lattuga Non è semplice Quasi così lo porto Ok Devi farne uno con carne e formaggio Però mi serve la carne da tagliarti Ok tu porta che io lancio Ah ce l'ho mancato Vai vai a mettere la carne Che io te le lancio Tieni Ok Quindi Grazie Sì sì Formaggio e carne Portavene in quantità industriale Aspetta che vengo a prenderne anch'io Perché ha finito di cucinare Dobbiamo anche lavorare Ah no Non dobbiamo lavorare Ha finito di cucinare lì Perché ci mancherebbe Che devo fare pure i piatti Quanto ti serve di formaggio? Quattro Allora Uno di formaggio Te l'ho dato Due di ho Ok Uno con l'insalata La preparo La ricchissà La carne sta andando La carne sta andando Ma anche l'altra carne sta andando Ok Intanto ti tiro un altro panino Uno da solo Sì Adesso te ne sarei uno con il formaggio Aspetta che vengo a prenderlo Messo Tieni Formaggio Aia Scusa Avevo sbagliato il tasto Scusa tanto Ok Prende l'altro formaggio Mi scusi Prendi anche la carne Non ho carne È un attimo È solo uno io Tieni Vengo a prendere di là Scusa tanto E' solo uno con il formaggio È scaduto Abbiamo sbagliato Ok Se ti serve l'insalata Dimmelo Perché C'è una lì Così Così Scusa Ah non posso più prendere qua Porto io Ok Ti faccio sempre carne Carne e formaggio Carne e formaggio Sì 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 Tu basta che cucini Io ti faccio carne e formaggio Il primo vabbè Portameli tu su un paio Spostati però Ok Allora quindi uno Devo tagliare questa Due Grazie Ti do panini intanto Un attimo Aia Grazie Mi hai lanciato una bistecca Nel sedere Tieni E tieni Poi Questo qui Panini Panini Ti ho mandati Ne hai mille Panini Panini Io li ho metti Mamma mia Allora Questo qua Questo qua Questo qua E questo qua Questo Oh Ciao Ciao Aspetta Poi altro Guarda che sta per andare a fuoco una carnina Ok Anche l'altra Aspetta che arrivo a aiutarti a consegnare Dai No Poi mi prendi in giro Allora Questo Mettici qua Questo Scusami Vado a consegnare Questo qui Ok Poi uno Senza niente Questo Poi uno col formaggio Quindi serve il formaggio Eh L'ho cascata col panino Mannaggia a me Vabbè Si rifa Allora Prendi la carne Si Guarda che sta andando a fuoco qua No Che mi sta laggando tutto Eh Ciao Quando mi lagga la fine Tieni Panino Carne Ok Dai a consegnarlo Uno col la carne Porca Ma non c'è il piatto qua Il tuo piatto ce l'ho io Ce l'ho io Ce l'ho io Vai 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 a prenderlo Di là eh Voglio portare un po' di piatti Tieni Vai 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 Corri 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 Eh Lattuga Te l'ho già preparato uno Senza Senza niente Si lo so Solo metterci il piatto e basta Allora Tieni Carne E panino E panino Panino E panino Manca il formaggio Tieni Vado io allora Via 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 Ok Ok Il formaggio serve Come? Mi ha buttato fuori dalla sessione Tieni Questo qui l'avevamo fatto Non mi ricordo No no Questo è nuovo Ma comunque ce l'abbiamo fatto lo stesso Credo No no Due stelle Ah ok Vieni Vado giù Vado giù Eh ma sai cos'è Devo capire i tempi di sto coso Tieni Ho messo la salsiccia lì Ok Io intanto metto questa Tieni il formaggio Mettilo sulla pizza lì Mettilo tu a cucinare Nel tuo Eh ho capito Ho preso una salsiccia Avevo sbaglio Aspettione Ho visto Stai giù Ho visto Eccola là Tieni Tieni Questo 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 L'ho messo Dalla tua parte Sì Quindi credo Che potrei prenderlo Sì Potrei prenderlo Da sola Mi devi dare i piatti Da lavare però È un piatto Vieni C'è la pasta di là Vieni a consegnare Su Adesso faccio io La pasta Non ti preoccupare La pasta è già pronta Lo so Lo fatta io Adesso me ne serve Una con il formaggio E basta Margherita Così c'è il margher Tieni Consegna questa Qua Qua Una con salsiccia Te l'ho messa in mezzo La salsiccia Tieni Non segna Faccio l'altra con salsiccia Intanto Io sono due Ok Servono i piatti Ma se lui non me lo dà Ok La pizza La pizza E non c'è il piatto No Poi prenderlo con le mani Sei sicuro? Ah sì Dopo un po' Mi Non lo ricordo più Allora Devi farmene Una con Il salamino No Salsiccio Che salamino Il mio cervello Sta andando Basta Ok E una margherita Salsiccio Sto salami Tu Io ti taglio Un po' Adesso Maggio Tanto Ormai È caduto Il tempo Sì C'ho In 98 Ok Che parto Dopo un po' Non capivo Di niente Margherita La salsiccia Ok 3 e 4 Eeeh Uguale a prima? No Quanto è uguale a prima? No È panino questo? Mi sa Questo è panino Ho burrito panino Panino Devi lanciare le cose Allora Io posso venire da te Ti ha Che giro To Allora Che serve Carne Aspetta Tu me lo puoi lanciare Sì Che ti sto lanciando tutto Buu Quando Quando fai qualcosa di cattivo Buu Geritosa Cosa pensa Teo Ma Addio C***o Adesso C'è tutti Il materiale Perché sto arrivando di là Capito Eh Sennò come faccio a aiutarti Scusami Allora Questo devo mettere qua Questo Perché di là non ho il tagliere Io dovrei solo lavare i piatti E basta Praticamente Ok Ok L'insalata Te la metto dentro qua Serve uno di formaggio Quella ha finito Vado a consegnare Ok Ok Vedi là che c'è la carne Che c'è la carne che sta facendo Faccio io tutti i giri del caso Non ti preoccupare Ok Panino questo Panino qua E panino qua Ok Allora Insalata l'ho già preparata Qua Sì Poi mi serve Un pomodoro L'ho già preparato Qua manca solo la carne Vado a prendertela Tieni Perché quella con la carne Sta per scadere Ok Questo qua sta per scadere Intanto vado A consegnare una Col formaggio Questo Così Vai a consegnare tu Ok Questo è finito Sì Ok Allora Vado a prenderti i piatti E ti do Ti lancio dei panini Sì Allora Qua Tieni Tieni E tieni Carne Lasciamo anche della carne Se vuoi Ok Ti porto un piatto Così puoi consegnare Dove te lo metto Qua in mezzo Perché quello lì Sta scadendo Sì dai Ma è il macello qua In due è un casino Devi portarne uno Semplici Occhio che la carne Sta andando a fuoco Corri Ok Ok Ne devo preparare uno Con Fatto Carne 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 Fatto Aia Consegna Consegna Che io farò qui Ok E questo qua Manca No Niente È pronto Consegno Subito Ok Adesso ne devi fare Uno semplice Torna di là Torna di là Non ti preoccupare Ti lancio tutto io Allora Torna di là Uno semplice Ti devo lanciare Questo E questo E poi Formaggio Ok Allora sì Penso che per il tempo Che c'è basta Ti serve un piatto Giusto? Sì Te lo porto subito Tieni Aspetta che ti do una mano Questo lo mettiamo qui È scaduto prima del tempo Mi sa che non abbiamo Ah sì Per poco forse Ce l'abbiamo fatta Per tre punti Non lo voglio più vedere Né rifare Né Per tre punti Non lo abbiamo fatto Di nuovo nell'acqua Uh Bello Bello Anche questo mi piace A lei un po' meno Tutto quello che piace a me A lei non piace Ok Allora Che dobbiamo fare? Patatini Devi lanciare le cose Io te le taglio Il contrario dell'altro Io Ah lancio del cibo Ho fatto pure L'obiettivo Oh me l'ha dato È finito di dire parolacce Debbiamo essere family friendly Non sono parolacce Parlare di escrementi Fa parte delle parolacce Mi servono i piatti È un attimo Non sono le gambe Sì che ce le ho Lo stai a dire Cosa mi stai narrando? Allora Mi serve patate Tu Già hai ragione Tieni patate Allora Brava È brava Com'è l'acqua? Calda? Io non ti rispondo Patate Attenta le tue patate Dai Allora L'acqua non ha bisogno Delle mie patate Grazie Allora Mi serve il pollo Adesso Tio Tio Perché ho detto Tio? E perché le patate Sono finite nell'olio Direttamente? Ficcherò lì vicino Contenta Io ti tiro un pollo Tie Questi sono quelli Sporchi Scusi No Piatti sporchi Ti sono messi lì È lì qualcosa Che sta bucciando Ho visto Piatti Nell'acqua O almeno lo stesso No Aspetta Aspetta Faccio io Faccio io Faccio io Perché non le possiamo consegnare Se no Le levati Ok Ok Io ho tutte e due Le fregitrice piene Perché mi servono piatti Tanto ti tiro un po' un lente Perché i polletti sono belli Io te ne metto qui Ok no Grazie Allora Questo Vai Un altro polletto Qui nella fregitrice Mentre Grazie Grazie Mira proprio Perfetto La ringrazio signorina Lanciami cose Un attimo Un attimo Perché mi servono sempre piatti Se fossimo più vicino prenderei piatti Eh Ma usare dei piatti tipo free Perché mi cambi? Devi lanciarmi un altro pollo Eh lo so ma mi serve il piatto Perché ce l'ho già pronto Il pollo Il pollo Sta per scadere il pollo Perché non ha piatto Andava piatti oggi è in ferie Ecco io ci tocca far tutto a noi Tantatatatata Vero? È ormai andato Ciao pollo Rip È il pollo Vogliamo rifare Velocemente Dai Quenta è? 296S perché ci serve velocità nei piatti che altro è una rotta di scatola sta cosa dei piatti o patate e patate appena si avvicina me lo prendo io al piatto non preoccupare fai quello che devi fare ok patate grazie come questa vicina qua ci vorrà un po vai che vicino ok si prende un po di roba adesso fare una patata e uno pollo è un piatto mi serve preso il piatto no non è possibile te li metto qua i piatti è certo che mi hai messo un pollo nel lavandino no non ci ho fatto caso pollo mi serve non patate per il momento solo pollo ok un altro pollo brava mamma mia che c'entro ragazza mia che c'è scusi devo darle i piatti mettimeli mettimeli però mi servono piatti puliti ok se il pollo mi da ecco le metto qua e quelli sporchi metto quello pulito grazie si prenda quello sporco per favore perché così almeno fatto già fatto ok adesso mi serve un altro pulito perché c'è un altro polletto pronto grazie perfetto adesso devo fare un po le patate quindi patata da pollo qua grazie e poi le patate sono pronte un attimo che devo mettere i piatti sporchi qua guarda che te li ho messi adesso si allontana si si dopo ok io ho preparato quello che c'è da preparare tanto ti mando un po di roba piatto ok devo fare un pollo e una patata qui al nostro ristorante mi sa che non ci verrà mai nessuno tu dico meno male chi è che vuoi aprire un ristorante io dopo questo trantrano grazie uh pollo scusami scusami pollo non volevo si stava bruciando il pollo scusami patate anche lei cazzo di patate e varsi dalle scate oh e poi piatti mi sa grazie grazie mille un altro piatto mi serve vengo a prenderlo vabbè l'ho venuta a prenderlo io c'è il pollo ok adesso mi serve questo qui e pollo e patate devo fare di patate ne ho abbastanza direi però adesso sono piatti mi servono tieni te ne metto qua so se rischiare eh no eh no cioè stai lì quando è te li prendi dai dai vicino ti va tieni 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 e te l'ho messi lì 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 aiuto no dove l'altro piatto è lì stanno sempre tutti lì stanno ah no quella patata mi sembrava un piatto scusa stai via il pollo da lì per favore vai ok 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 uno mi sa che scade non ce lo so fare niente ah no vero male ce l'abbiamo fatta? si si ah stava per scarire mamma mia ho visto che c'è una modalità che si chiama divano no credo che sia molto difficile no poi la proveremo si si la proveremo si si no si ma il fiocco rosso di no sembra una z non spero si capisce il fiocco rosso modifica ah no scusami sembra una n fatto quando sbandiera sembra una n e poi fa tipo fiocco rosso no vado io in mezzo e ti lancio le c***e ok no fai la carne per adesso quando hai vabbè che faccio hai una brutta mira sappilo questo si questo si va bene basta basta che hai una brutta mira basta ti prego carne mi serve il pollo da se ne ci penso io tutto in acqua adesso arrivo eh fammi finire di fargli fare questo se non brucia allora lo faccio anch'io ci penso io tieni e ora mi afferisco in acqua ancora io guarda ma cosa ho fatto? eh gli hai dato il piatto praticamente senza niente non è presente il genio fatto a persona uguale ma di solito non è la roba non gli vai viene su un piatto mi ricordo oltre si no ah aiuto aiuto adesso c'è va bene ho tozzato il riso mi serve riso grazie no aspetta no bene bene Sì, ok Va bene, va bene, basta Mi sta venendo Il riso cite Ti devo lanciare il pollo Molla sto riso Eh, adesso Brucia tutto perché non molla il riso Sto stupido Eh, bravo Metti la pentola sul coso dei piatti Tanto Ok Perfetto, adesso Allora, qui abbiamo tre riso Tieni Tieni Adesso mi butto in acqua perché se no non ci arrivo più di là Molla giù e molla giù No Mi servono dei piatti, vado a aspettare Ecco Sì, vabbè, ma la mia Qua fa quello che vuole Aspetta che ti porto qua Occhio Vedi consegnare perché mi servono dei piatti Eh, lo so, un attimo Ti sta bruciando anche Non mi ero accorta che ero tornata Non l'ho visto Mi serve... grazie Io volevo Anche il pollo ti ho dato Sì Vabbè Quando mi arrivano piatti ti porto roba Perché se non c'ho i piatti non posso Eh, nell'acqua l'ho lanciato Un genio È venuta nel club No, ma perché ero convinta che avevo lasciato la pentola lì E quindi l'ho lanciato nell'acqua Arriva il riso Vieni La carne sta bruciando Chef inesperto Uh, però questo era bello, dai A parte il quista iniziale che mi ha fatto rimanere male Eh Però devo dire Devo dire che il Il fiume lì Stava diventando grassottello Con tutto il riso che gli abbiamo dato Si gonfia la pancia Ho 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 Grazie.